Siamo con i social, sono un tifoso un po' del bar e sento un po' la Vox Populi, sento un po' cosa dice la gente, sicuramente lei lo saprà anche lei, però insomma sui social ogni volta che c'è i commenti sulle partite del Forlì, quando si va nel bar che si parla un po' del Forlì con gli altri tifosi, voi se lo saprà già ma se non lo sa già le faccio la spia io in questo video, praticamente il 90% dei tifosi dice ma cosa cazzo ci siamo andati a fare in Lega Pro se non avevamo i soldi per fare una squadra decente, oppure ma perché non siamo... Amici di Piazzale della Vittoria, un saluto da Luca Mastrangelo, allora ho voluto cominciare questo video con un rewind di un video di 2-3 volte fa, perché praticamente purtroppo sta andando la storia, sta andando così, il Forlì viene da questa roboante sconfitta contro la Ferrari Pissolò, mi stavo soffermando un attimo sulla pagina ufficiale del Forlì calcio a leggere qualche commento del dopo partita e mi è rimasto impresso il commento di questo ragazzo che dice il mio pensiero è questo, era meglio risparmiare quei 250 mila euro e spenderli per fare un campionato da vertice in D, piuttosto che spenderli in un ripescaggio che ci vede far figura di merda in ogni angolo d'Italia, era ovvio che a metà agosto non ci sarebbe stato tempo per fare un mercato all'altezza, la città e i tifosi non meritano questo, pretendiamo rispetto. più ci sono svariati mi piace a questo commento, quindi vuol dire che ce ne sono tanti di persone che la pensano come lui. Io l'avevo detto nel video dell'altra volta che comunque il Presidente Fabri secondo me ha fatto una scelta coraggiosa chiedendo gli pescaggi in Lega Pro, io sono contento che l'abbia fatto, però insomma il Presidente non ha bisogno dei miei consigli, però gli avevo detto Presidente guardi che si fa presto dal passare dall'essere osannati per averci riportato tra i professionisti all'essere imputati per non essere in grado di mantenere una squadra tra i professionisti e purtroppo sta succedendo questa cosa qui, tutta Forlì ormai dice la stessa cosa, ma cosa ci siamo andati a fare in Lega Pro se non avevamo i soldi per fare una squadra decente e purtroppo questa sarà la cantilena che in società sentiranno per tutta la stagione se la squadra non si riprenderà o se non si farà qualcosa per farla riprendere. Oltretutto adesso veniamo anche da una settimana di dichiarazioni, insomma adesso la società giustamente dopo le dichiarazioni di Gadda delle pistole ad acqua e dei bazooka ha fatto un po' da pompiere, gettando acqua sul fuoco, ma insomma io non sono un addetto ai lavori, non sono un della società, sono un tifoso normale, insomma io ho inteso che Gadda ha voluto un attimino, non dico difendersi da solo, però la dichiarazione di Gadda tradotta in altre parole vuol dire la sfidale è bella, la sfidale è difesa, me ha fers qualche pos, me ha fers con qualche made, però i miracoli li faceva uno che è nato a Bethlehemme, me ha il miracolo a difesa, quindi tradotto, tradotto è questo quello che ha detto Gadda, poi possiamo dire che non ce l'aveva con nessuno, non ha puntato il dito con nessuno, ha fatto solo una battuta, possiamo dire girarci intorno e trovare tutte le interpretazioni che si vuole, però Gadda ha voluto mettere un attimo le mani avanti, perché insomma ripeto l'ha detto, i miracoli faceva qualche lame, i miracoli con Bardelloni, Anifez, poi ovviamente non è solo colpa di Bardelloni che è un ragazzo straordinario e io ogni volta che finisce la partita del Forlì, io lo abbraccerei da tanto che si impegna, però Bardelloni lo sappiamo che è così, io mi aspettavo qualcosa di più da tanti altri giocatori, Cappellini, Cappellini è ora che tu deghi una svigeda, sei bambino prodigio da due anni ma non sbocci mai, sei sempre lì che trotterelli per il campo, non si capisce cosa fai, non si capisce, Spinosa anche te, devi accendere la lampadina, accendi la basura di camera tua al massimo, anche te sei sempre lì che vaghi per il campo, sei quello che dovrebbe creare qualcosa, non crea mai niente, con son, te la devi prendere per mano sta difesa, ho capito, magari avrai poca copertura, però anche da te, sei un elemento di esperienza, io mi aspetto qualcosina di più, mi aspetto, poi ripeto, tutta la rosa a livello di impegno non gli si può dire niente, però magari quelli che hanno qualche mezzuccio in più degli altri, senza essere dei fenomeni, però qualche mezzuccio in più degli altri, le ore che sdegga una svigeda, le ore che sdegga, poi dopo vabbè anche Cangini ha fatto delle dichiarazioni, ha fatto l'azienda lista, ha fatto il pompiere anche lui, perché ovviamente quando la situazione adesso è questa, non si può cambiare, perché non so se per non volere o non potere in questo momento a portafoglio non si può andare, anche se tutti ci aspettavamo qualcosina dal mercato degli svincolati, per non arrivare a gennaio già spacciati, però pare che a soldo non si possa o non si voglia andare, e quindi Cangini cosa ha fatto? Ha difeso il lavoro suo e della società, dicendo che c'è ancora tanto tempo, il campionato è lungo, la squadra è in merdi per salvarsi, però insomma anche queste io penso che siano le classiche frasi di circostanza che si dicono per non caricare l'ambiente, per non gravare l'ambiente di ulteriore pessimismo, di ulteriore negatività, dopo ovviamente chi è addetto ai lavori dice così, chi non è addetto ai lavori, chi è un semplice tifoso, la realtà la vede e lo sa che certe frasi si dicono così, tanto perché ci devono dire, io adesso abbiamo davanti la trasferta di Gubbio, poi la partita col Parma, due partite difficilissime, io spero in un miracolo, spero in una botta di culo, se non dovesse succedere spero che non paghi Gadda, perché comunque l'allenatore è sempre quello che paga per primo quando le cose non vanno bene, ma secondo me l'allenatore è l'ultimo dei colpevoli, ma proprio l'ultimo, 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 quindi speriamo in una botta di culo, tornando alle dichiarazioni di Gadda, lui ha detto che noi combattiamo con le pistole ad acqua, loro combattono con i bazooka, se proprio non potete comprargli un appunto a un centrocampista, al povero Gadda, comprategli un liquidator 50, che quello spara l'acqua almeno fino a 20 metri, magari facciamo un po' più alla figura, ciao ragazzi!